...e tutti questi fuoristrada in movimento! Stia tranquilla, non lavorerà nessuno quel giorno, signorina coniglia! Ciao! Siamo il team Umizu! Ehi, ragazzi! Ciao! Bravo, Pluto! È ora di prendere il giornale! ...e tutti questi fuoristrada in movimento! Stia tranquilla, non lavorerà nessuno quel giorno, signorina coniglia! Ciao! Siamo il team Umizu! E oggi stiamo cercando di catturare il ladro più furbo di città Umi! ...e tutti questi fuoristrada in movimento! Stia tranquilla, non lavorerà nessuno quel giorno, signorina coniglia! Ciao!